Nell'anticipo della 28esima giornata allo stadio Don Mauro Bartolini tra Atletico, Ascoli e Avezzano termina 0-0. Un punto forse che scontenta un po' tutti i marchigiani per la conquista della salvezza. Gli abruzzesi invece rischiano di perdere terreno nei confronti delle battistrata. E settimana prossima al De Marsi c'è il derby con l'Aquila. Dopo le prime fasi di studio Emminicucci dà la distanza a impegnare Brusca con un intervento apparentemente innocuo che fa trasalire i tifosi abruzzesi. Sempre l'Atletico Ascoli ci prova al ventesimo, azione convulsa in area che si risolve però in un nulla di fatto per la squadra marchigiana. Dalla parte opposta Asse, Tunkara, Verna. Pompei risponde presente. Ancora i biancoverdi spingono, Ferrante prende la mira, palla di poco alta. L'Atletico Ascoli vuole il gol del vantaggio. Traini, Minicucci, Brusca disinnesca. Proprio allo scadere dei due minuti di recupero nella prima frazione, calci punizione pericolosissimo per l'Avezzano. Verna appoggia per De Silvestro, fuori di poco. Nella ripresa i padroni di casa entrano con il piglio giusto. Traini svicola in area, murato all'ultimo della difesa avversaria. Sul proseguo dell'azione, Minicucci dal limite prende la mira, fuori non di molto. Ancora i bianconeri vogliono mettere la freccia del sorpasso. Olivieri, dei 25 metri, impegna Brusca in un duplice intervento. Il match è avaro di emozioni e non si sblocca alla mezz'ora. Sul ripartenza, Gurrini impatta con il Mancino, ma l'ex Pineto calcia alto. E tra qualche episodio da Maviola che fa imbufalire il pubblico di casa e qualche tentativo belletario dell'Avezzano, la gara scorre via senza sussulti e dopo quattro minuti di recupero termina 0-0. Ma il comune mezzo Gaudio forse questa volta no per ambedue le formazioni. No, è il risultato che ha dato il campo. Diciamo che c'è stata battaglia e è stata una buona partita perché sapevamo le difficoltà che crea questa squadra perché è una squadra che gioca molto bene al calcio. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, specialmente nel primo tempo dove potevamo fare gol. E ripeto, per quello che si è visto in campo, credo che lo 0-0 alla fine sia risultato giusto. Noi siamo concentrati, dopo il Matese ho parlato con i ragazzi perché noi abbiamo un calendario molto complicato. Dopo la trasferta qui che era difficile abbiamo l'Aquila, Roma City e Sinigaglia. Sono le tre squadre che stanno lì lottando per andare playoff. Quindi noi sappiamo benissimo quello che sta facendo la nostra società, come sta operando e le cose extra calcio non ci riguardano, dobbiamo pensare solo al campo. Ma innanzitutto mi aspetto una prova di grande carattere e di grande voglia perché noi all'andata facciamo probabilmente la più brutta partita in assoluto dell'anno. Però ancora siamo appena nel post partita di questa qua dove, ripeto, abbiamo battagliato e abbiamo preso un punto che è su un campo difficile. Adesso recuperiamo e poi cominciamo a preparare il derby che sappiamo benissimo che dobbiamo riscattare la partita dell'andata e che i tifosi della città aspettano molto questa partita. Penso che sia mancato soltanto il gol, però non mi preoccupo perché è da inizio anno che abbiamo iniziato questo percorso e quando crei veramente tanto e non raccogli, prima o poi alla fine i ragazzi maturano e riescono a non perdere queste partite. Mi ricordo che quattro mesi fa queste partite non le portavamo a casa e oggi ci prendiamo un punto che muove la classifica e che nella dirittura d'arrivo, non ti dico che vale doppio perché vale sempre uno, però dà continuità, come avete detto voi, ai risultati, alla striscia positiva e comunque sia non soffriamo e non subiamo il blasone e la qualità delle squadre attrezzate per vincere i campionati perché la squadra di oggi è una squadra attrezzata per vincere il campionato e noi ci dobbiamo salvare. Assolutamente no, i conti non li faccio, so sicuramente che questo rush finale richiede ancora di più pazienza, lucidità e non dobbiamo cascare nel tranello di pensare che è tutto fatto. Io mi ricordo i sacrifici che hanno fatto questi ragazzi da luglio e da quando sono arrivati io al primo novembre, quindi l'ho detto anche a fine partita, bisogna guardare a testa alta alla parte finale del campionato con la consapevolezza che siamo vivi, abbiamo un'identità, siamo organizzati e che anche se non possiamo vincere poi però abbiamo imparato a non perdere.